Ciao saluto tutti i miei amici e tutti i miei compagni e vorrei dirgli un saluto, un bacio lungo, un bacio grande, un saluto e vorrei la musica per favore. Fa il caffè, fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, quattro, cinque caramelle, sette ali di farfalle che poi dice che il caffè è. Il caffè della pettina non si teca la marmellata, mezzo latte nel coltello, perché per te. Alla pettina, fa il caffè, fa il caffè con l'ossarino, metti qualche formatino, una somma di tacchino, una penna di pulcino, cinque sacchi di farina e poi dice che il caffè è. Il caffè della pettina non si teca la mattina, mezzo latte nel coltello, perché perché, 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 tu, 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 tu. La pettina, fa il caffè, fa il caffè con bebe e sale, l'angliu no, perché fa male. L'acqua si manca il petrolio, un salato, un tue olio, quando provo a quel tritono, salta e la mattina, col caffè. Il caffè della pettina non si teca la mattina, mezzo latte nel coltello, perché, 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 perché. Il caffè della pettina non si teca la mattina, mezzo latte nel coltello, perché, perché, perché. Ma perché. Ma perché.